Reclutavano ragazze nel Sud America per avviarle alla prostituzione, un gruppo molto ben organizzato che operava nella BAT con ramificazioni a Lecce, Genova e Napoli. A finire nel giro ragazze spagnole, colombiane e polacche. 23 i provvedimenti di custodia cautelare messi dal GIP Antonio Savasta su richiesta della procura di Trani, 17 finora gli arresti compiuti dai carabinieri del comando provinciale di Bari e dalla compagnia di Molfetta per un totale di 200 militari impiegati, comprese le unità cinofile. Le accuse sono di associazione per delinquere, finalizzata allo sfruttamento e induzione alla prostituzione, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, incendi e estorsioni ai danni delle prostitute che si rifiutavano di pagare i loro protettori. A guidare le file del gruppo era il bitontino pluripregiudicato Giuseppe Robles. Da un episodio a lui legato sono partite le indagini nel 2008, quando cioè aggredì, picchiò e ferì con un colpo di pistola un 43enne andriese che si rifiutò di pagare una prestazione sessuale con una prostituta. Spesso a sostituirlo quando era detenuto c'era sua moglie, Angela Vulpis, che gestiva gli incassi per un volume d'affari ingente. In tre anni di indagini i carabinieri hanno accertato che a reclutare le ragazze era una colombiana soprannominata alla Claudia, attualmente irreperibile, pare si nasconda in Costa Smeralda. Attraverso i suoi contatti le ragazze ben istruite arrivavano a Terlizzi, alcune completamente ignare di tutto, attraverso la tecnica del turnover, cioè ad ogni partenza di una prostituta corrispondeva sempre l'arrivo di una nuova. Tutte risiedevano in case o camere d'albergo nel quartiere Libertà di Bari. L'attività di prostituzione si svolgeva nei casolari e container della strada provinciale 231. Questi tutti risultavano nelle disponibilità delle ragazze attraverso fittizi contratti preliminari di compravendita che di fatto non si concretizzava mai. C'erano le vedette che assicuravano loro l'incolumità. Ognuno il suo ruolo? Ognuno il suo ruolo con compiti e c'era un bel guadagno considerate che pagavano giornalmente per questi locali 350 euro. Del fenomeno noi ci siamo interessati come prefettura sotto il profilo sociale di una settimana fa circa è l'intervento in un tavolo creato, organizzato dall'amministrazione provinciale per seguire il fenomeno dei minori ma anche della tratta perché è sotto questo profilo che chiaramente noi dobbiamo seguire la questione. In effetti l'operazione ha confermato che il problema della tratta è tuttora rilevante. Speriamo che con i risultati raggiunti stanotte si sia dato un buon colpo alla situazione attuale però la guardia non sarà assolutamente abbassata.